Siamo felici e soddisfatti dell'arrivo di Marco Borriello, che si aggiunge ad una rosa competitiva, per cui è un valore aggiunto che noi diamo a questa squadra. Abbiamo un attacco stellare, permettete di dirmelo, e tutti gli altri reparti sono coperti da giocatori che sono grandi professionisti, per cui ci tengo a sottolinearlo perché alla gioia della presenza di Marco va aggiunta anche la gioia di una squadra competitiva e di grandi ragazzi, grandi professionisti. Ovviamente desidero ringraziare il mio amico Adriano Galliani e il presidente Berlusconi perché ancora una volta hanno dimostrato grande amicizia e soprattutto coerenza e la parola data tra di noi vale come un contratto firmato, quindi desidero ringraziarli. Marco abbiamo parlato in questi giorni diverse volte e l'entusiasmo che sia io che Daniele ma che tutti quanti, che Daniele Prada è, tutti, hanno messo in questo obiettivo da raggiungere, che poi per noi era importante, importantissimo, credo che sia stato, sia arrivato a Marco in maniera molto chiara e molto diretta, quindi c'è un entusiasmo generale, anche l'allenatore, voglio dire, stare alla Roma non è, è una cosa speciale, gliel'abbiamo detto diverse volte e credo che lui ieri me lo abbia confermato appena arrivato, appena visto i tifosi, sì effettivamente era così, è un acquisto importante, io sento che ogni giocatore scelto è scelto con lucidità e con saggezza, la cosa che mi ha entusiasmato di più, forse rispetto a Nicola Sburdisto per me è stato un acquisto importantissimo, non voglio, però la cosa che mi ha entusiasmato con Marco, nella trattativa con Marco è stato l'entusiasmo e il feeling che si è creato subito, quindi in questo senso sì sarà un ricordo unico che mi porterò dietro, perché è un grande campione.